Il Border Collie è un discendente dei cani passoli di Renna importati dai vichinghi Scozia e in un secondo tempo incrociati con i cani passoli dell'uovo. Per secoli è stato selezionato per guidare e proteggere le greggi. Infatti per i compiti a loro affidati ha sviluppato una grande resistenza e una buona costituzione fisica. In Italia media, atletico e dall'aspetto ormonioso, i colori del suo manto sono tutti ammessi purché il bianco non sia predominante. Il colore più diffuso è il bianco e nero. Un tempo utilizzato solo come cane da lavoro, oggi è un ottimo cane da compagnia a patto che venga coinvolto nella vita quotidiana con giochi adatti alla sua innata voglia di lavorare e giocare. Spicca per le sue innumerevoli capacità, viene infatti utilizzato come cane per i non vedenti e dalle forze dell'ordine.